Sì, Schneider Electric si definisce lo specialista globale nella gestione dell'energia, con una specializzazione forte nei sistemi per la gestione attiva e l'efficienza energetica. Dopo i primi casi di successi avuti in un approccio diretto di Schneider su grandi firme e importanti, con buoni successi in attività di efficientamento, ci stiamo ponendo oggi l'obiettivo di creare delle best practices da portare sul mercato per aiutare le aziende che collaborano con noi a divulgare il verbo in modo diffuso sul mercato, quindi aiutando quella fascia di mercato che oggi non sarebbe accessibile direttamente da grandi aziende di dimensione come Schneider, ma che è accessibile da studi tecnici, ingegnerie, installatori e impiantisti che vivono la quotidianità col cliente finale e che hanno bisogno di strumenti, know-how e formazione per divulgare il verbo in modo diffuso. Questa è un'operazione che Schneider Electric si è impegnata a fare già nella fine dell'anno scorso e di cui si può avere evidenza collegandosi al sito www.sneiderelectric.it e da lì iniziare a scaricare della documentazione che viene messa a disposizione. Sempre sul sito Schneider Electric c'è il collegamento alla myenergyuniversity.com che è una piattaforma di e-learning gratuita volta a formare i soggetti a valle che desiderano incrementare il proprio livello medio di conoscenza su queste tecnologie. Quindi vi invito a collegarvi al sito www.sneiderelectric.it nella sezione efficienza energetica e Energy University.